L'allenatore è l'anello debole della catena, il fatto che io credo che questo comunque sia una squadra ben allenata perché i nostri problemi sono altri, ma quelli di un po' di inesperienza in alcuni momenti, di poca cattiveria agonistica, cattiveria non significa rompere le gambe agli avversari o avere delle condotte sportive eticamente immorali, no, però un po' di attenzione, un po' di concentrazione, un pizzico di esperienza in più in alcune situazioni, però quelle cose sono cose che si acquisiscono soprattutto per alcuni ragazzi col tempo, però di contro ci abbiamo anche, anche se sembra un paradosso dirlo in questo momento, anche tante qualità perché comunque questa è una squadra che gioca, poi io personalmente condivido anche quello che si dice e poi personalmente sono perennemente insoddisfatto, certo che dobbiamo fare di più, per fare di più ci dobbiamo mettere testa e anima e cuore che sono gli aspetti più importanti perché poi tecnicamente abbiamo qualità, questa è una squadra che dal punto di vista tecnico ha qualità. Io sono abituato a valutare i fatti, le parole poi se non vengono seguite dai fatti lasciano il tempo che trovano, per quello che riguarda il dopo Pontedera, ma vedete quando si fa questo lavoro non è che ci si abitua, fa parte del gioco, l'allenatore è l'anello debole della catena, ma ripeto ero deluso, amareggiato, ma non perché avevo chissà quali pensieri, io pensieri non ne ho, incazzato perché avevamo perso la partita, voglia poi a dire come e come, in che modo l'avevamo persa, ma l'avevamo persa e quindi commettendo i soliti errori eccetera e magari avendo episodi sfavorevoli, quindi tutto normale, le parole servono a poco, bisogna passare ai fatti, io sono abituato a valutare i fatti. Ma guardi ma dal punto di vista lavorativo le settimane qui sono state sempre serene, questo è un contesto di lavoro importante, qui non c'è una cosa che ci manca quando lavoriamo, devo dire che il lavoro sul campo durante gli allenamenti quotidiani è sempre fatto bene, quindi c'è grande partecipazione perché poi è anche un ottimo gruppo oltre ad avere qualità tecniche, certo c'è qualcuno che ha bisogno di essere un po' più formato dal punto di vista professionale, però l'impegno non manca mai, il contesto di lavoro è ottimale perché obiettivamente il modello organizzativo su cui ci alleniamo è oltre la categoria, Pescara non è una piazza che merita questa categoria, però siamo qui a provare a ricucire uno strappo, a provare a non far arrabbiare i nostri tifosi, anzi a dargli meno delusione di quelle che gli abbiamo dato fino adesso, ma gli intendimenti sono buoni, poi io ripeto, io come tutti gli altri sono sempre i fatti che contano, adesso dobbiamo metterci i fatti. Galano è l'unico giocatore che sta procedendo con un percorso di lavoro, Ferrari ha preso una brutta contusione, a Pontedera ha fatto un paio di giorni di lavoro differenza, però poi si è aggregato al gruppo e sta bene, quindi di indisponibili non ce ne sono, c'è soltanto Galano.